Ecco, gruppo della pattuglia C-Club Senigallia, nella pista da discesa libera, qui a Valtoran, pronta per una gara di Coppa Europa. Per noi, il serpentone apre la pista. Stefano, poi Lilaria, Massimo, Lilaria, Riccardo, Stefano, poi Roberto a seguire, Antonella, e infine Tartaglini, soprannominato Zainetto, ed ecco il campione Andrea! Bravo Andrea! Forza con queste reti che dobbiamo fare la discesa, forza!